Professore, cominciamo con la domanda più difficile in qualche modo. Cos'è l'amore? L'amore è la prima causa di infelicità nel mondo. Oh, infelicità. Perché? Meglio denunciare, meglio denunciare. Vedete un terapeuta, terapeuta. Causa di infelicità nel mondo. Le coppie in crisi vengono da me e mi dicono come possiamo ritrovare la felicità. Io rispondo lasciandovi subito. Tranchant. È più difficile trovare una coppia felice che trovare un vestito normale a casa di Cristiano Maggiorno. Questo è un esempio. Lo dice terapista, terapista. Allora, biso. Chi fa caracca? Meno si capisce. No, non si capisce quando parla lei. Allora, facciamo un sondaggio. Facciamo un sondaggio. Alzi nella mano fra i presenti quelli che pensano di essere felici dal punto di vista sentimentale. Vediamo, vediamo. Guarda. Bello. Ho visto un uomo che ha alzato la mano quando la moglie gli ha schiacciato la schiena. Io avevo il big zin che schiacciava e faceva così. Dato altrimenti stasera a casa facciamo i conti, è meglio rinunciare. Anche sexualmente, caro biso. Sì. È meglio fare sesso con una persona che non ami. Perché? Che caratterialmente disprezzi. Perché? Perché se fai sesso con una persona che ami subentra l'ansia da prestazione. E a quel punto nell'uomo l'organo sessuale va e non va. Sale e scende. Che sarebbe anche giusto. Una volta sale, dieci scende. Questo meno giusto, devo dire. Si accaltozza. No, si accaltozza. Che brutta immagine, dottore. A quel punto quando si accaltozza... Cosa bisogna fare? Bisogna steccarlo.